Noi siamo un centro di cultura di Chiavari, perché chi non è italiano, Chiavari è vicino a Genova, sono 40 km per Genova, siamo un centro di cultura che da 12 anni facciamo il ciclope, basta non vi dico altro, c'è esperienza, c'è esperienza, volevo dire una cosa, perché quest'anno c'è un grandissimo compleanno, che è quello chiaramente del libro, ma nel nostro piccolo c'è il compleanno di un personaggio che probabilmente è il personaggio più importante della nostra esibizione, perché è il personaggio che noi chiamo un risultore, quello che alla fine decide tutto. Quindi io vi chiedo un augurio, tanti auguri, un'eternità dopo questi cent'anni a Chiavari Ho. Anche lui sono 12 anni che è qui con noi, che puntualmente dopo questa esibizione, vai la matrice, e poi sta lì un anno, l'anno dopo lo regoliamo. Stavo facendo quattro chiacchiere col vecchio Troi della Polizia Metropolitana di San Harbour Hill e mi venga un accidente se non mi arriva un fottuto spazzacamino e per poco non mi cacciava il suo armese in un occhio. Mi volto di botto per fargli vedere se mi puzzava il fiato quando vedo Ainz in persona. Tojo, cosa si fa di bello? Ma che l'hai visto quel fottuto spazzacamino che per poco non mi cava un occhio con la sua granata? La fuligine porta bene. Chi era quel vecchio coglione che parlava con te? Il vecchio Troi, stava nella polizia. E tu che fai da queste parti? Oh, niente di speciale. C'è un vecchio furbacchione fottuto ad un ladro laggiù, alla chiesa della caserma, all'angolo di Chicken Lay. Il vecchio Troi mi stava giusto spifferando qualcosa su di lui che si è fregato un buschelio di tè di zucchero da pagare a tre scellini la settimana e addendo che aveva una fattoria nella pontea di Daun e così gliel'ha fatta quel soldo di cacio di Mosi Senzo. Un ciclo Giso? Eh sì, uno un po' suonato. L'altro è un vecchio stagnaro di nome Gerati. Gli sto alle costole da quindici giorni buoni e non mi riesce di cavargli un penny. E questo è il lavoro che fai adesso? Eh sì, a cosa siamo ridotti? Esattore di mali debiti dubbi. E quello là è il più famoso grassatore fottuto che potrai mai incontrare con quella faccia tutta butterata che pare un colabrodo. Glielo dica mi fa, lo sfido mi fa e lo risfido a mandarla qui un'altra volta mi fa. E se lo fa, mi fa, lo farò chiamare in tribunale, lo farò per commercio senza licenza. Cristo è a me che mi veniva da ridere all'ebreucio che non stava più nei panni dalla rabbia. Lui bere miei tè, lui mangiare miei zuccheri, perché lui non pagare miei denari? Per merci, non deferibili acquisite presso il signor Moses Erzo, commerciante, 13 St. Kevin's Parail, nella città di Dublino, rione Riva Food, commerciante e quina presto denominato il venditore. E vendute e consegnate al signor Michael Geraghty, 29 Hungary, nella città di Dublino, rione Riva Arran, quina presto denominato l'acquirente. Cioè a dire 5 libri a verduquo di deprima scelta, 3 cilini e 0 pence la libra a verduquo, e 42 libri a verduquo di zucchero cristallizzato a 3 pence la libra a verduquo, a detto acquirente, deve a detto venditore una lira sternina, 5 cilini e 6 pence per valore ricevuto il cui ammontare dovrà essere pagato a detto venditore da detto acquirente, con trae del debito in rate settimanali, mediante versamento ogni 6 giorni della somma di 3 cilini e 0 pence. Ed esi merci non deferibili, che non dovranno essere né cedute impegno né depositate come cauzione né vendute o altrimenti alienate da dato acquirente, ma dovranno essere e rimanere e ritenersi sola ed esclusiva proprietà di detto venditore in conformità delle norme specificate nel presente atto, secondo quanto concordato in dato di Erlapra, il detto venditore e i suoi eredi successori rappresentanti e delegati da una parte, il detto acquirente e i suoi eredi successori rappresentanti e delegati da un'altra parte. Sei un astegno convinto? Tra un bicchierino e l'altro non vigno nulla. Facciamo una puntata da Barney Kirchner? Voglio vedere il cittadino. E vada per il buon vecchio Barney. Niente di fantastico e di sensazionale, Joe? Eh, neanche l'ombra. Sono stato a quel convegno al City House. Ah, e che roba era, Joe? Mercanti di bestiame per quella storia dell'altra episodica. Voglio dire due paroline al cittadino. Eccolo là, nel suo buco col bicchierino davanti e il suo mucchio di cartacea lavorare per la causa. Fai, avvola. Tutto a posto, cittadino. Siamo amici. Allora via libera. Allora, che ne pensate della situazione? Faceva l'irregolare, i rori della montagna, ma per Diana Joe fu all'altezza della situazione. Credo che ci sia un rialzo sul mercato. Beh, è tutta colpa della guerra stradiera. Sono i russi che hanno voglia di tiraneggiare. Via, via, basta con le fesserie, Joe. Ho una sete che non la darei via per una mezza corona. Dalle un nome, cittadino. Vino nazionale. E tu cosa prendi? Iber, meccanesti. Tre pinte, Teddy. E la cassa funziona bene, cittadino? Ma è stato così bene. Oh, Dio. Allora, Gary Owen, vinceremo? La figura seduta su un grosso macigno, ai piedi di una torre rotonda, era quella di un eroe. Ampie le spalle, vasto il petto, forti le membra, franchi gli occhi, rossi i capelli, abbondanti le lentigini, ispida la barba. Grande la bocca, grosso il naso, lunga la testa, profonda la voce e ginocchia ispide, muscolose le mani, pelose le gambe, accese il volto, nervolute le braccia. Da spalla a spalla misurava parecchie arne e le sue ginocchia montuose, simili a rocce, erano coperte, a pari del resto del suo corpo, d'una spessa vegetazione di peli congetti e fulvi per colore e di durezza, simili alla ginestra di montagna, un ex europeus. Le nari dalle ampie pinne d'onde fuori uscivano, setore dello stesso colore fulvo, erano talmente capaci che all'interno della loro cavernosa oscurità, la lodoletta avrebbe agilormente potuto fare il suo nido. Gli occhi in cui una lacrima e un sorriso si disputavano eternamente, il primato avevano le dimunzioni di un cavolfiore di discreta grandezza. Una poderosa corrente d'alito caldo usciva a intervalli regolari da profonda cavità della sua bocca mentre le vigorose, forti e sane ripercussioni del suo cuore mormidabile tuonavano un continuo brontolio facendo sì che il terreno, la sommità della torre elevata e gli ancora più elevati muri della caverna ne vibrassero e tremassero. Indossava un lungo vestimento senza maniche di pelle di bue scuoiato di recente e gli arrivava a ginocchia a mod ampio gonnellino e questo era il ricinto, la vita di una cintura di giunchi a mod ampio gonnellino intrecciati. Sotto di questo portava bracchi di pelle di daino rossamente cucite con minugia e le estremità inferiori erano inguagliate in alte uose parbriggiantite con viola di lichene essendo i piedi calzati di scarponi di cuoio di vacca ben secco e stringhe di tracchia dell'animale il stesso un'arancia abbassata in gradito accuminato giaceva al suo fianco mentre ai suoi piedi posava una feroce rappresentante della stierpe canina il cui russare visto a raggi intermittenti denunciava essere ed è sprofondato in un solo inquieto la quale supposizione era confortata da rocchi ringhi e movimenti spasmodici che il suo padrone reprimeva di tanto in tanto coi colpi tranquillanti di un poderoso randello ruzzamente ricavato da una pietra pari luccicata Così insomma Terli ci portò le tre pinte che offrì la gioca e per diana mi venne a mancar quasi la vista quando spiattellò una svanzica vero come vero che io sono io una bella luccicante sovrana non abbiate paura ce ne sono delle altre ti sei rifulito la cassetta delle offerte giù? sudor della fronte è stato papà prudenza a darmi l'imbeccato ma l'ho visto prima di incontrarti che gironzolava in filene Greek street con quell'occhio da chiozzo a cercare il bel dell'uomo dappertutto chi sembien per la contrada di Michan ricinto di nera armatura oh Bloom figlio di Rory ed esso non sa che sia timore di Rory il figlio l'uomo dei prudenti spiriti per la vecchiaccia dei presti guardi questo foglio dei miei stimoli guardi qua l'irlandese indipendente guardi fondato da panel perché fosse l'amico del lavoratore bastate a sentire ci sono nascite morti nell'irlandese tutto per l'irlanda indipendente persino i matrimoni beh beh grazie a dio ci ha andato la polvere bevi cittadino senz'altro onorevole amico alla salute Joe e a tutto il mortoio ah non parlate ne avevo una voglia boia di quella pinta giuro a dio che me la son sentita arrivare dritta dritta in fondo allo stomaco il piccolo Alf Bergan saltò dentro dalla porta e si nascose nel retro bottega di Barbie piegato in due da ridere e indovinate un po' chi c'era nell'angolo che non l'avevo visto ubriaco da russare Bob Doran in persona non sapevo cosa succedeva e Alf continuava a far segno di guardar fuori e per Diana c'era né più né meno di quel fottuto vecchio pagliaccio di Dennis Brin in pantofole con due libracci infottuti ficassi sotto la scella e la moglie pieveloce dietro a lui disgraziata lei a trottare come un cagnolino credevo che Alf schiantasse da ridere ah 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 guardatelo un povri ah mi ha gentile aperto pieno con una cartolina che le ha mandato qualcuno con scritto sopra F.C. Fanculo e lui viene in corsa per narcolella per difamazione e diecimila sterrine di danni accidenti il bastardo fottuto cominciò a ringhiare che c'era da farsela vedendo che c'era qualcosa per aria ma il cittadino gli tirò un pugno sulla testa F.C. Fanculo ma Brin dai era da Giannerimento e poi è andato da Paulus Award e poi l'ha incontrato a Tom Rafford e l'ha mandato da sotto sceriffo per fargli uno scherzo ah 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 Dio mio benvenuto male da ridere F.C. quando è che Johnny il Lugo deve impiccare quel tale a Mount Joyce? sì sì impiccare ma aspettate mi faccio vedere termini da bere eh quel vecchio rimbambito diecimila sterrine avreste dovuto vedere la faccia di Gianni il Lugo F.C. Fanculo ma di chi ridi? è Bergan quello? sbrigati Terry arrivo Terence Orion detto Terry lo udì e incontanente gli portò una coppa di cristallo piena di cervocia sfumeggiante color ebano che i nobili gemelli Bunjivek e Bangarilana avevano eternamente distillato nei loro tini divini astuti al par dei figli di Leda Immortali da poiché essi servano le succulenti bacche del lupolo e le ammucchiano e stacciano e schiacciano e fan bollire i mescovi di poi acidi succhi appressano il mostro al sacro fuoco e mai non cessano di notte e di dal loro lavoro gli astuti fratelli signori del Tino e allora tu 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 o cavalleresco Terence porgesti come quel che lo sa da quando è nato poi succede il nettario beve raggio e offrisi la coppa di cristallo al sitibondo tu anima della cavalleria pari in bellezza agli immortali neanche mi guarda ma lui il giovane il capo degli oberga mal soffria ad esser vinto in generosità ha però porse con gesto grazioso un testone di bronzo prezioso e di sbalzata eccellente o praticabbro veder poteva sia immagine di una regina di regalo portamento rampollo della casa di Brunswick Vittoria si nomava sua eccellentissima maestà per grazia di dio del regno unito di Gran Bretagna e Irlanda e del dominio britannico al di là del mare regina difenditrice della fede imperatrice d'india colei che portava lo scettro vincitrice di molti popoli bene amata poiché essi la conoscevano e la amavano dal sorge del sole al calardo medesimo i panni i neri i rossi e gli etini ma cosa legge a quel fottuto massone avanti e indietro sul marciapiede che c'è? ma eccoci qua a proposito di piccagioni vi mostrerò qualcosa che non avete mai visto lettere di boia guardate un po' oh ci stai prendendo per il naso? ma parola mia leggetele e chi sta ridendo? che fa di bello Willy Maria? ma non lo so l'ho visto proprio ora in capostir con Paddy Dignam ma quale vuoi dire da quel... che cosa? con chi? con Dignam mica la patti? sono di origine genovere eh sì perché? ma non lo sai chi è morto? Paddy Dignam morto? è sicuro? ma sono sicuro di averlo visto non più di cinque minuti fa chiaro come il sole eh? allora hai visto il suo fantasma Dio ce ne scampi e liberi come? oh Cristo buono ma appena cinque ma come? e c'era con lui Willy Marley tutti e due vicini a... come si chiama? cosa? Dignam morto? cosa c'è da dire di Dignam? e tu parla di... morto? e non è più morto di te può anche essere si sono presi la libertà di seppellirlo stamattina però Paddy? eh sì ha pagato il suo debito alla natura Dio abbia pietà di lui amén oh Cristo buono perdi Anna era mezzo riconvedito ve lo dico io nelle tenebre si sentivano aleggiare mani spirituali e quando la preghiera fu rivolta nell'opportuna direzione un'attenue ma crescente l'uninescenza color rubino divenne gradualmente visibile a cagion dei raggi gilici che si radiavano dal sonno della testa e dal volto la comunicazione si effettuava attraverso il corpo abituitario e anche per mezzo dei raggi aranciotti amanti e scarrati emanati dalla regione sacrale e dal plesso solare interrogato circa il fatto se la vita la assomigliasse alla nostra esperienza della carne affermò di aver sentito dire da esseri più di lui privilegiati ora nello spirito che le loro maggiori erano fornite da ogni moderna comodità domestica quali cose come tetanapana acciansara acciansara acqua calda vatatata vatatata richiesto se avesse qualche messaggio per i viventi esortò tutti coloro che erano ancora al di qua di maia a riconoscere la vera strada perché circolava insistente la voce nei circoli devanici che Marte e Giove stessero combinando guai all'angolo orientale sotto la denominazione dell'ariete fu allora domandato se ci fossero desideri particolari da parte del defunto e la risposta fu vi salutiamo amici rimasti sulla terra che ancora siede nel corpo attenti che C.K. non se ne approfitti fu accertato che l'annunzione era diretta a Mr. Cornelius Keller C.K. direttore della popolare impresa di Pompefume Primers O'Neill Jane amico personale del defunto che si era assunto la personale responsabilità di tutto ciò che riguardava le esegue prima di allontanarsi e gli richiese che si dicesse al caro figlio Pezzi che l'altra scarpa da cui cercata si trovava adesso proprio sotto il comodo della stanza a mezzanino e che si doveva mandare il paio a risuolare da Carmen solo risuolare però è perché i tacchi erano ancora buoni dalle dimori mortali si è ripartito O'Vignan solo nel nostro mattino lieve trasvolava il suo piede sulle peci secche Patrick dalla fronte nascente gemi o bamba con i tuoi venti e gemi tu oceano con i tuoi turbini e riecco e riecco chi chi blu è di guardia la avanti e indietro già da dieci minuti e per Diana vidi anch'io quel suo muso dare una sbirciatina dentro e poi scivolare via di nuovo il piccolo Alf c'era rimasto di sale parola mia dodoro oh Cristo buono avrei giurato che era lui e che ha detto che Cristo è buono? come? ma è buono che Cristo mi si va a prendere quel poveretto di... ma di... di Dignan? eh beh, dopo tutto l'ha fatta finita con tutti quei che avevano eh e ha un porco fottuto dico io a prendersi quel poveretto di... ma di Dignan Terry si avvicinò e gli strizzò l'occhio che stesse tranquillo che non volevano sentire di quei discorsi in un locale rispettabile e un unzaco e Bob Doran comincia a frignare per... è di Dignan quanto è vero che tu stai qui è il migliore dei tuoi, il miglior carattere, il più onesto con le fottute lacrime in tasca a parlare a cavolo di cane fottuto ma... meglio che tornasse a casa da quella troietta di sonnambola che ha sposato Moni, la figlia dell'uscere l'amante, teneva un casino a Derby Street dove lei andava in giro sulle scale mi diceva Martin Lyons che ci si era fermato alle due di mattina senza uno straccio addosso con ogni ventidio in mostra ingresso libero a tutti si, gioco leale e niente favoritismi e il più nobile, il più leale e se ne andato, povero, piccolo fatti Dignan e dolente col cuore oppresso e lamentava l'estinzione di ferraggio del cielo il vecchio Gary Owen ricominciò a ringhiare contro Bloom che girava e rigirava intorno alla porta veglia, forza, non la mangia mica così Bloom si infila dentro con quell'occhio con quell'occhio con quell'occhio da pesce morto fai l'occhio da pesce morto bravo fisso sul cane e chiede a Terry se c'era Martin Kanka oh Cristo Maccaone sentito un po' questa eh Seven Hunter Street River allo sceriffo capo di Dublino Dublino egregio signore mi pregio a fornire i miei servigi nessun menzionato caso doloroso ho impiccato Joe Genn nella prigione di Buttle il 12 febbraio 1900 e ho impiccato eccetera eccetera firmato H. Rumble barbiere diplomato barbiere e barbara fottuto per Giulia e guarda un po' che zampe di gallina sto disgraziato tieni levamela da sotto gli occhi ola Bloom cosa prende? così ti cominciano tira e molla Bloom a dire che non vuole e non può e scusate senza offesa eccetera e poi disse via prenderò un sigaro per Diana papà prudenza non c'è niente da dire dacci uno di quegli zampironi di prima scelta Terry e Hans ci stava dicendo che ce n'era uno che aveva mandato un biglietto a lutto con il bordo nero attorno oh sono tutti barbieri che vengono dalla zona industriale di Inghilterra e impiccherebbero il padre per cinque serline una sull'altra e ci aggiungono anche le spese di viaggio e ci raccontava che due stanno di sotto per tirargli le gambe quando lo lasciano cadere e a strangolarlo per venino e poi dopo tagliano a pezzi la corda e ne rivendono i pezzi per pochi scellini a capoccia nella scura contrada andimora i cavalieri vendicatori del rasone spire mortali hanno nelle mani in verità con esso i costoro guidano all'erebo qualsiasi umano che abbia commesso un fatto di sangue perché io in alcuna guisa non lo sofferirò così appunto disse il signore così così tutti a parlare della pena capitale e blu manco a dirlo ci finca anche lui il naso coi suoi perché e per come e tutta la coglionberologia sull'argomento e il vecchio cane ad annusarlo di continuo e a proposito di non so che effetto deterrente avanti di questo passo alla memoria dei morti sì sì lei non afferra quel che intendo dire quel che voglio dire è che sì in fede sì in fede a me gli amici che abbiamo sono al nostro fianco i nemici che odiamo li abbiamo di fronte e un'altra bevuta ci sta? si invita a cosa riprovare eh? il solito Terry ma dove arrivo? è proprio certo di non volere qualcosa a modo di setante? no grazie veramente volevo vedere se trovarlo Martin Canninga capisce? per quella assicurazione del povero Dignan Martin mi aveva detto di andare a casa capisce? lui cioè Dignan non ha notificato a tempo debito l'ipoteca sulla polizza alla compagnia e a termini di legge il creditore ipotecario non può ribadersi sulla polizza ora ecco entrò un membro del can dello molle un venusto eroe bianco in volto anche orcheo poco acceso poco acceso consigliere di sua maestà in legge adottrinato è con lui il principe del rete della nobile scatta della ola Dio mi protegga e altrettanto a lei ma che stavano combinando quei due? J.J. lo fa levare dalla lista dei giurati e l'altro gli da una mano per cavallo di impiccio e il nome sullo stas gioca a carte e se la fa con quei gagaroni d'alto bordo con la caramela all'occhio a bere spumante e poi dietro fino al collo in mezzo a sequestri e notifiche mette in gobo l'orologio da Cummins in Prensie Street dove nessuno lo conosce nel retro bottega quando c'ero anch'io con Pisa che si riscattava le scarpe come si chiama signore? Don! dice lui sì, un accidenti dico io per Diana uno di questi giorni va a finir che vede il sole a scacchi mi da l'idea ma avete mica visto quel patto fottuto di Bri da queste parti? F.C. San Cu e come? e voleva andare dritto in tribunale fortuna che Conne Keller l'ha persuaso dicendogli di far vedere prima la scrittura a un perito F.C. 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 Tutto perché un cugino del suo vecchio apriva l'inginocchiatoio al papo, il signor Brini di Summerville, suo afro papale del santo padre, ha lasciato il lungo fiume e se n'è andato in mostri. Chi era poi di tempo? Uno zero, due stanze ingresso sul di dietro a sette scillini la settimana e andava in giro con mezzo chilo di ubatacche sul petto per impressionare la gente. E oltre a ciò una cartolina è una pubblicazione, fu ritenuta prova sufficiente di intenzione criminale nel caso seduto avvocato, che fa testo, a parer mio un'azione legale sarebbe amissibile. Beh, ah, salute! Salute! E rieccolo! Dove? E rieccotelo per Diana, davanti alla porta, coi libri sotto il braccio della moglie accanto, e con i keller con quell'occhio spento che spirciava dentro nel passare, parlandogli come un padre, cercando di vendergli una barra di seconda mano. Uno della compagnia dei nasuti, che era conosciuto sotto il nome di James Bond, alias Satiro, alias Sparkenspiro, mise un avviso sui giornali dicendo che forniva un indietro per il Canada per venti scillini. Come? E che portano la sveglia al collo? Certo che era un fottuto imbroglio! Come? Tutti fregati! Servette e tangheri della contina di Miltre! E come? E anche qualcuno dei suoi ci è cascato! J.J. ci diceva che c'era un vecchio israelita, un certo Zaretsky, o qualcosa di simile, che piangeva col cappello in testa nel banco dei testimoni, giurando per Mosè, che c'era rimasto preso per due pinè. Ma chi dirigeva il dibattito? Il presidente della sessione primestrale. Oh, povero Sir Frederick! Lo si mette nel sacco come si vuole! Un cuor d'oro racconta di una storia pietosa di affitto non pagato, di moglie malata e una caterva di bambini, che la parola mia si scioglie in lacrime sul seggio presidenziale. Eh sì, certo! Ruben J. ha avuto una fortuna fottuta l'altro giorno che non l'ha schiaffato al fresco per aver citato quel poveretto di Glamley che fa il guardiano del quartiere comunale del Bottegato. Un vero scandalo, questo povero lavoratore. Quanti figli? Dieci avete detto? Sì, vostro onore, mia moglie è un tifo. E la moglie col tifo, ma scandaloso. Lasciate la corte immediatamente, signore. No, signor mio, non firmerò nessuna ingiunzione di pagamento. Come osate presentarvi davanti a me e chiederti una cosa simile? È un povero lavoratore, è ilustioso, non l'acqua. Beh, la casa è chiusa. In perrochea di sedici del mese della Dea degli Occhi Bovini e nella terza settimana dopo il dì della festa della Santa Indivisibile Trinità, essendo la figlia dei Ceri e la Vergine Luna nel suo primo quarto, si dette che quei dotti giudici ripararono nel Tempio della Legge. Ivi, maestro Courtney, sedendo nella propria stanza, dava il suo parere e il giudice, maestro Andrew, sedendo nella giuria nella corte provata, ben soppesava e ponderava la richiesta del primo attore rispetto ai beni nell'oggetto del testamento in questione e della disposizione testamentaria finale in re, la proprietà reale e personale del compianto Jacob Halliday, mercante di vini defunto contro Livingstone, minorenne minus abensi socio. Ed Elis congiurò di voler esaminare rettamente secondo coscienza e di far retta deliberazione nella questione pendente tra il loro signore e sovrano, sua maestà il re, e l'imputato alla sbarra, e di mettere un giusto verdetto in base alle prove. Così vi aiuti Dio e baciate il santo libro. E coloro si alzarono dai loro seggi, i dodici iari, e giurarono di agire secondo la sua giustizia. E in mantenente i ministri della legge fecero uscire dai penetrali della torre un uomo che i ventri della giustizia avevano arrestato. E gli misero i ferri alle mani e ai piedi e non volero accettare né cauzione né maileveria, bensì pronunciarono contro di lui accusa poiché egli era un malfattore. Venti, quelli là, vengono qui in Irlanda a riempirci di cimici? Perché, vede, per un annuncio ci vogliono parecchi rinnovi assicurati. Il segreto è tutto lì. Si figli di me. Ma, figuriamoci, truffano i contadini e i poveri di Irlanda. Non vogliamo più stranieri in casa nostra. No, sono sicuro che andrà benissimo. È solo quella storia che scapisce. Consideri già tutto sistemato. Molto gentile. È colpa nostra. Li abbiamo lasciati entrare. Noi ce li abbiamo portati. L'adultero e il suo drudo hanno portato qua i grassatori sassoni. Verdetto interlocutore. Una moglie disonolata. Ecco la causa di tutti i nostri mali. Ma eccola qua. Guardate la sua polisgasetta. Guardate, guardate. Fa dare un'occhiata. Guardate la polisgasetta. Era nient'altro che una di quelle sconcienze di giornali illustrati nienti che Terry si fa passare da Cornel Keller. Segreti per sviluppare le parti intime. I trascorsi di una bellezza del gran mondo Norman W. Tupper ricco imprenditore di Chicago trova la moglie bella ma infedele sulle ginocchia del tenente Taylor la bella in mutandine che trascorre e l'amico che la gratta dove le prude è Norman W. Tupper che arriva con la scacciacami proprio in tempo per trovare che lei ha finito di correre l'anello con il tenente Taylor. Oh, Teresina mia. Che camicina a coro. E che velo, Giù, eh? Ti piacerebbe mangiare una coscia di quella bolla strema, eh? Beh, quali sono le ultime notizie dal teatro delle operazioni? Quei cialtroni del municipio cosa hanno deciso sulla lingua irlandese nel loro conciliato? Oh no, l'antilucente armatura rivestito inchinandosi fino al suolo maggiorese al cavo possente altissimo e valoroso d'Irlanda tutta e dette di a condividere quanto era accaduto. Come gli antichi signori della fedelissima città la seconda del reame raunati si fossero nel velaggio e divi, dopo le debite preci agli dèi che abitano l'Etere Supremo avessero tenuto solennio consiglio a ciò che, se darsi potesse rimessa fosse in onore tra i mortali la latra, l'opera, dei gaeli che il mare vivete. È in marcia! Andiamo nei trucci sassoni fottuti e il loro patois Così J.J. a dirla sua e a fare lo smargiasso dicendo che una campana è buona finché non si sente l'altra e contano i fatti e la tattica di Nelson guardare dal canocchiale con l'occhio cieco e che era come mettere in stato d'accusa tutta una nazione e blu a cercare di tenere di bordone e la moderazione e la fotterazione e le loro colonie e la loro civilizzazione e la loro civilizzazione vuoi dire ma che vadano all'inferno che Dio se è buono qualcosa di stramale dica tutti quegli orecchioni fottuti figli di puttana non ha né musica né arte né letteratura di essere degni di chiesere gamatetari tutta la civiltà che hanno l'hanno rubata a noi cartaglioni figli di specie rasterne La famiglia è una zia Ma non sono europei per niente sono stato in Francia io con Mary Negan di Varici non ci trovi una sola traccia di loro e della loro lingua e nessun posto se non nei cabinetti e sono molti fiori che l'uomo fiorir non beve cospe l'esamblè per vita al bion ciò disse e con le rozze grosse mani muscolose nervolute alzò il beccaro di vera sfumosa cervogia e lanciando il tribal grido di guerra LANDERGAWU beve alla disfatta dei suoi nemici schiatta di possenti valorosi eroi signori delle onde che siedono sui troni della vasto silente come di dei mortali così si avvicina la scatola dei biscotti e Bob Doran aveva lasciato per vedere se c'era qualcosa da sgranare a sbafo e il vecchio cagnaccio dietro che cercava di buscare qualcosa anche lui col grugno rognoso per aria mamma pazienza è andata in dispensa c'è gente che vede la pagliuta negli occhi degli altri ma non la trova nel proprio non c'è peggiorno c'è con i chi non vuol vedere capite dove sono quei 20 milioni di irlandesi che dovrebbero essere qui oggi invece di 4 e le nostre tribù perdute e le nostre ceramiche i tessuti i migliori del mondo e la nostra lana che si vendeva a Roma ai tempi di giovenale e il nostro lino il nostro damasco dei telai di Ante e i nostri merletti di limerich le nostre concerie le nostre cristallerie laggiù dalle parti di Bellibald e il nostro popoli che abbiamo da tempo di Giacard de Lione e i nostri tessuti di seta i nostri qui di fosforo delle trine avorio del convento delle carte militane di Nero ma dove sono i mercanti greci che venivano attraverso le colonne d'Ercole quella di Gibilterra che ora è nelle mani dei nemici del genere umano con oro e porcolatiglie per vendere a Westworld dalla fiera di Carmi è vero leggete Vittacito e Tolomeo e anche Giraldo Cambens vivo Pelleterie Barmo di Conemara Argento di Fiberari i nostri cavalli universalmente stimati anche oggi i nostri cavalli i nostri cavallini irlandesi con il re Filippo di Spagna che si offriva di pagare il dazio per aver diritto di pesca nelle nostre azze che cosa che cosa non ci devono i giallastri di albione per la rovina del nostro commercio e dei nostri focolari tra poco saremo senza alberi come in Portogallo o in Ligola con quell'unico albero se non si fa qualcosa per il rimboschimento l'aria i ciabeti gli alberi della famiglia delle conifere stanno scomparendo alla svetta leggevo in un rapporto di Lord Castletown e salviamo il frassino gigante di Gole e il signore degli anelli di Kilder con 40 piedi di circonferenza e uno giugero di fogliare salviamo gli alberi di Irlanda per gli uomini futuri di Irlanda sulle belle coline di Eire l'Europa mi tiene gli occhi addosso e noi teniamo gli occhi addosso all'Europa avevamo rapporti da fare con la Spagna quei francesi quei fiamminghi prima che sti bastardi fossero svezzati birra spagnola a Gole barche cariche di vino sul fiume cupo vinoso e con l'aiuto della santa madre di Dio gli avremo i nostri porti oggi vuoti saranno pieni di nuovo Queenstown Kinsel Gole Blacksoft Bay Ventri Kilibex il terzo porto del mondo o una foresta di alberi dei lince degli oraili e degli occhetti al tempo in cui il conte di Desmond si permetteva di fare un trattato con l'isperatore che hanno quinto in persona e lì avremo quando si ripeterà la prima nave da guerra irlandese venderle onde con la nostra bandiera inalberata la più antica bandiera che abbia battuto in mare la bandiera della provincia di Desmond e Torul tre corone in campo azzurro i tre figli di Milesco bravo e giù l'ultima sorsata per gli dèi pieno di vento e di piscio come un gatto le bacche del comet hanno le corna lunghe ma vorrei per la sua pellaccia fottuta vederlo andare a raccontare tutte ste storie al popolo di Shanagold e Emily non ha manco il coraggio di metterci la punta del naso con i voli Meguire che lo stanno cercando per ridurlo a un colabrodo dopo che ha messo le mani sulla proprietà di uno sfrattato bene bene belletto cosa prendete un mezzo Terry un mani in alto che fai Tommy arrivo subito è della nostra marina da guerra che tiene a bada i nemici della terra cosa ne dice e ora ve ne dico una io l'inferno in terra leggetemi le rivelazioni che escono sui giornali a proposito delle nervate sulle navi scuole di posto scrive uno che si firma disgustato così attacca a parlare delle punizioni corporali e la ciurma e i marinai e gli ufficiali e i contramiragli attillati con le loro feruche e il cappellano con la biglia protestante ad assistere alla punizione e un giovanotto trascinato avanti che urla chiamando la mamma e loro lo legano alla culatta di un cannone un deretano a dodici colpi era così che la chiamava quel vecchio faraguto di Sir John Bersport ma l'inglese odierno timorato di Dio le chiama vergate sul posterno è un'usanza meglio onorata con l'infrangerla che con l'osservarla e poi ci racconta che s'avvicina al capitano d'armi con una lunga verga e prende l'abbrivio e gli scortica al fottuto deletano al povero disgraziato finché non urla all'assassino questa è la gloriosa marina britannica che è la fata patrone in tutto il mondo quelli che non saranno mai schiavi di nessuno con una sola camera ereditaria che si è rimasta sulla faccia della terra e il paese in mano di una dozzina di porci all'ingrasso e di baroni delle balle di cotone questo è il grande impero di cui si vanta un impero di schiavi sfruttati e fustigati sul cuore il sole non sorge e il tragico è che loro ci credono credono nella verga fustigatore onnipotente creatore dell'inferno sulla terra e il jack marinaio figliolo di un cannone che fu concepito da un odioso vanto nato dalla marina da guerra soffrì sotto delle dano e dodici fu scarificato scuoiato e battuto urlò come un diavolo dell'inferno il terzo giorno risorse dal letto tornò in porto e ora siede sul di dietro fino al nuovo ordine dove tornerà su dal sangue per vivere ed essere ripagato amene ma quella disciplina non è la stessa dappertutto voglio dire che non sarebbe forse la stessa cosa qui se si opponesse la forza alla forza non ve l'avevo detto quanto è vero che son qui a bere anche se stesse per tirare le cuoia ti vorrebbe dimostrare che morire è vivere e noi opporremo la forza alla forza abbiamo la più grande Irlanda di là dal mare i nostri fratelli furono cacciati dalle loro case nel nero 47 le loro capanne di fango e le casupole lungo la strada maestro furono demolite e il Times si fregò le mani e disse a quei pulcini bagnati dei suoi lettori sassoni che ci sarebbero stati tra poco tanti irlandesi in Irlanda quanti pelli rossi in a me perfino il grande turco ci ha mandato le sue piastre ma il sassone cercava di affermare la nazione impatriamente la campagna era fiorente di affermare la nazione impatriamente la campagna era fiorente di raccolti che le iene britanniche comprarono e rivendettero a rilegione si cacciarono via i contadini a torre ventimila ne morirono in quelle navi bar ma loro che approdavano alla terra della libertà ricorderanno la terra del salvaggio e ritorneranno e con la giunta la derrata non sono dei codardi i figli di Granuele i paladiti di Ketri ideale perfettamente vero ma io intendevo dire che è molto che aspettiamo quel giorno cittadino da quando la povera vecchia ci disse che i francesi correvano in mare ed erano sbarcati a Killala certo abbiamo combattuto per i regali steward che ci hanno rinnegato per i seguaci di Pugliano Terzo e ci hanno trenato ricordatevi di Limeri e della pietra del trattato in Francia abbiamo dato il nostro sangue migliore alla Francia e alla Spagna ma che cosa ce n'è venuto i francesi una manica di maestri di Pano capite cosa vuol dire non sono mai vasi una scorreggia al rosto e ora non stanno cercando di fare una entente cordiale con la perfida albiore sono sempre stati loro a mettere fuoco all'Europa con spalle francese e quanto ai teteschi agli noveriani non ne abbiamo forse abbastanza di quei mangiasego maledetti sul trono dall'elettore Giorgio fino al giovanotto tedesco e a quella vecchia troia scorreggione che è morta Cristo c'era da ridere e come attaccò a far narci della vecchia che strizzava l'occhio ubriaca frabicia del suo palazzo reale tutte le sere che Dio mandava la vecchia con la sua razione di whisky irlandese e il cucchiere che la raccattava come un sacco di cenci per infilarla a letto e lei a tirarlo per i baffi e a cantargli dei brani di canzoncine come Heaven on the Rhyme e vieni dove il momo è a buon mercato e ora abbiamo Edoardo il pacificato ma ma va a raccontare qualcun altro c'è più pece che pace in quel bischero fortuto e cosa ne pensa dei santi ragazzi preti e vescovi di Irlanda che gli decorano la stanza a meno con i colori sportivi di sua maestà satanica e attaccano dappertutto fotografie di cavalli montati dai suoi bordini conte di lui né più né meno avrebbero dovuto attaccare tutte le donne che ha montato lui ma considerazioni di spazio hanno influito sulla decisione delle loro signorie ma e vuoi provare un'altra cittadina sì signore senz'altro hai tu obbligato Joe che la tua ombra possa rimanere sempre la stessa la stessa dose persecuzione tutta la storia universale ne è piena si perfeso all'odio nazionale tra le nazioni ma lei sa cosa significa una nazione sì e cos'è una nazione una nazione è la stessa gente che vive nello stesso posto per Dio allora se le cose sono così sono una nazione anch'io perché vivo da cinque anni nello stesso posto o anche che vive in posti diversi questo è il caso mio qual'è la sua nazione di Sereccia in Irlanda sono andato qui in Irlanda spingo un po' i bicchieri di chi sono? quello è mio mi disse il diavore al polizio domani anche io partengo a una razza che è odiata e perseguitata anche adesso proprio in questo momento in questo istante derubati spogliati insultati perseguitati ci viene tolto quel che c'è a partire di diritto in questo stesso momento ci vendono all'asta in Marocco come schiavi o bestie ma sta parlando della nuova gerusalemme sto parlando dell'ingiustizia giusta? sì sì ma allora ponetevi con la forza da uomini eccomi un'illustrazione dal manacco quella faccia di sogno dietro la culata di un cannone per Diana ce lo vedo di più dietro la ramazza davvero gli ci vorrebbe solo un grembiale da pambinaia e poi crolla tutto un tratto torcendosi tutto all'incontrario moscio come un cencio bagnato ma non ne vale la pena la forza l'odio la storia tutto non è vita questa per gli uomini e le donne odio e insulti e tutti sanno che è precisamente il contrario di quel che è veramente la vita cosa? ma l'amore voglio dire il contrario dell'odio ora devo andare un momento al tribunale per vedere se c'è Martin se viene diteli che torno tra un minuto solo un momento e chi ti tiene e via come un fulmine lubrificato un nuovo apostolo per i gentili amore universale ma non è così che ci dico ama il prossimo tuo quello affama il prossimo tuo è il suo motto amore per gli dèi è un bel esempio di un momento l'amore ama amare l'infermiera ama il nuovo farmacista il vigile quattantici ama ama Mary Kelly Gertie McDowell ama il ragazzino con la bicicletta MB ama un signore biondo e l'ici Anne ama l'idanto suo tempo giù giungo l'elefante ama l'ici l'elefantessa e il vecchio mister virtual col corno acustico ama la vecchia Mrs. Verge e il colloquio giordo l'uomo del Macintosh marrone ama una signora morta e sua maestà il re ama sua maestà la regina la signora Norman W. Tupper ama il tenente Taylor tu ami una certa persona e questa persona ama un'altra persona perché ciascuno ama qualcuno ma per fortuna Dio ama tutti vergio alla salute tua e del cuore e a maggiori fortuna cittadini urrà è sosto bene la benedizione di Dio e della Vergine e di Santa su di voi amen li conosciamo questi pacchettoni che predicano e si tagliano la guida che ne dite dell'antimonioso Cramwell teso i fianchi di ferro che passavano a fil di spada le donne e i bambini di Drogheda con la citazione biblica Dio e amore incolate intorno alle gole del cannone ma è un fatto ma c'è chi può dirci tutto sull'argomento Martin Cunningham lui lo sa era niente meno che la vettura del governo con sopra Martin e Jack Power e con lui un tale Crofter o Crofton un pensionato dell'ufficio tasse un orangista dell'ufficio del registro di Blackburn che si tira su la paga per il lesso o si chiama Crofton scaruzzandosi i suoi giupoli il paese a spese di sua maestà i nostri pellegrini giussero a rustico svello e smontarono dai palafredi olà patroniere gridò colui che nella simianza appariva al capo della pregata improntopante da pressa in cialdire batteva di gran colpi con l'elsa della spada contro l'imposta aperta e il buonoste si invenne a quel richiamo cingendosi del greviule di cuoio buco buona ventura a voi messeri e i disse facendo sequiosa riverenza muoviti restopante gridò quel che aveva bussato ai deseri puolmente a noi provedi quanto ha di meglio la cantina da poiché affermia ci è mestieri ai nasso messeri disse l'oste la mia povera casa ma ben magra dispensa non so che cosa offrire alle vostre signorie or bene signor mio grigò il secondo della brigata un uomo al prante della persona è così che servì messi del re ma strobotte incontenete le fattezze dello stegliere mostrano una mutazione e merce e mercele chiedo messeri disse humilmente se voi ben siete messi del re dio salve sua maestà e non vi mancherà alcun che gli amici del re dio benedica sua maestà non andrà digiunando in casa mia ve lo assicuro muoverti or dunque gridò il pellegrino che si era fatto fino allora piaciuto e peraltro un gagliardo mangiatore all'aspetto hai il tuo che da darci quindi il buonostra fece ancora la liberenza e si rispose aggradirebbe di messeri un pasticcio di piccioni rotondetti delle scaloppe di cacciagione una sella di vitello un'altra traccinata con l'ardo vero isolato una testa di vero albistacchio un bacino di candida crema un acqua di ricordo del nespolo e una casca di pinterreno e la direste dio merce gridò quel che l'ultimo aveva fallo bellato giobbe ma grada pistacchi ah 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 gridò l'uomo dal piacevole sebiate e diceva povera casa e magra dispensa è un gai luccinatore in vero dopo tutto perché un giudeo non dovrebbe amare la sua patria come gli altri perché no qualora sia ben sicuro qual è la patria un ebreo un gentile un cattolico romano un metodista ma che diavolo è noi non lo vogliamo o ragista o presbiteriano che sia è un ebreo rinnegato venuto da qualche parte dell'ungheria ed è stato lui a far tutti i piani secondo il sistema ungherese lo sappiamo bene noi su a castella non è il cugino di blu di dentista oh niente ha fatto solo uno non animo lui si chiamava vira anche il nome del padre quello che sa bene no non se ne è fatto cambiare ufficialmente il padre è il nuovo messia di Irlanda l'isola dei santi e dei santi beh lo stanno ancora aspettando il redentore è proprio come noi in foto sì ogni figlio maschio che nasce credono che sia il loro messia e ogni ebreo è tutto eccitato mi immagino finché non sa se è padre o padre ma pensano che tutti i momenti siano buoni oh per Dio dovevate vedere Bloom prima che nascesse quel suo figliolo che morì l'ho incontrato un giorno al mercato sud che comprava una scatola di fosfatina lì sei settimane prima del parto un ventre sa mère e ve lo chiamate un uomo e chissà si è mai indolivato da che parte si beh e due figli sono venuti al mondo e in tutti modi ah e ti sospetta no per Diana molte verità si dicono per scherzo e uno di quei maledetti meticci si cacciava a letto non all'embo mi diceva una volta al mese col man di capo come una ragazzina con le sue cose sapete che vi dico sarebbe un atto di Dio prendere un tipo così e buttarlo nel mare fottuto sarebbe legittima difesa via e poi se la svinia con le cinque sterline senza neanche pagare un picchierino Dio ci salvi neanche da bagnare la punta della lingua verità per il prossimo vostro ma dov'è non possiamo aspettare un lupo in veste da niente ecco cos'è via raggiungerì io lo chiamo a sue ma aveva detto da qua hai il tempo per una breve ribagione si si solo una ma dobbiamo fare la svelta e voi? tre mezze terri San Patrizio dovrebbe sbarciare un'altra volta belle childa e riconvertirci dopo che abbiamo permesso a tipi simili di contaminare i nostri libri beh Dio ci benedica a tutti qui ecco la mia figlia e ci esaudirà in certo e al suono del campanello Benedetto preceduta da un procifero con gli accoliti i turiferi i portatori di navicella i lettori gli ostia i riti i diaconi i sudiaconi sia proprio in cuo la santa processione gli abati i mitrati e i priori e padri i guardiani e monaci i monaci di Benedetto da Scoletto Certosini e Camandonesi Cistercenzi e Rivettani e con essi venuti dal fonte Carmelo e i figli del profeta Elia con a capo il vescovo Alberto e Teresa Davila calzati calzati e scalzi e frati marroni e bici e figli del poverello Francesco cappuccini con biglieri minimi assorbanti e la comune delle figlie di Clara e dietro seguivano tutti i santi e i martiri e le vergini confessori San Sire San Isidoro Oratore San Giacomo Minore San Foca di Sidope San Giuliano Spitaliere e San Owen Calicolo e San Johnson e San Pfizer e San Moderna e San Anonimo San Eponimo San Piodonimo San Monimo San Paronimo San Sinonimo San Rezzo da Tull San Giacomo di Dinger di Capostella Fratello Luiz Spacificus Fratello Luiz Bellicoso Sere Sante Rosa di Lima di Viterbo Santa Petagna San Giorso la Roma di Civergine eccetera 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 e tutti seguivano con lindie, oreole e glorie portando palme arpe, spade corone d'olivo in vesti su cui erano in tessuti i santi simboli delle loro prerogative caramai, dadi pagnotti, orcioli tappi, scuri agri, poti bambini nella tinozza corindie conchidie bisacce cesuie chiavi, dragoni gigli, palini da caccia barbe, porcelli macine da volino occhi sul bianco uccelli aspersioni unicorni e mentre se giravano per via della colonna di Nelson Mary Street Mary Street Capper Street stanno mondiando l'introico di epipanie e domini che inizia con sorge illuminare e quindi con estrema dolcezza graduale che suona tipo le sabanene miracoli molti operarono quali scacciare diavoli richiamare morti in vita moltiplicare pesci sanare i ciechi ritrovare oggetti interpretare tempi le scritture per dire perfettare bravo al fine sotto un badacchino di panno d'oro veniva il reverendo padre O'Flynn assistito da malachia e patrizio e quando i santi padri ebbero raggiunto il loco stabilito la magione di Bernard Kirnan e Co società anonima i numeri 8 9 10 di Little Britain Street grossisti di drogheria vino e alcolici autorizzati per la consumazione in loco di birra vino nei cuori l'officiale venerdì la casa e incersò le finestre a croce e le intersezioni delle volte e le volte e gli spigoli e i capitelli e i fruttoni e le fornici e le croci e le intersezioni delle volte e le volte e le cupole e le asperse e le architravi di acqua benedetta e nell'entrare benedisse vivande e peperaggi e la brigata dei beati rispose alle sue preci auditorium nostro indomini e domini qui feci celum e terra dominus pubis cum et cum spieridum tu e impose le mani per benedire e recitò il grazie e pregò e tutti pregarono con lui Deus puius vergus aprichita sacrificarum omnia benedizione te d'autore principia per cristu dominus nostru bene e burro sul pane ho fatto una capatina in tribunale per vedere se lei era là e spiro di non tribunale un accidente con le fasche e zette di batterini brutto spiroggio fottuto non fricci da bere che diavolo di paura eccolo lebreo tutto per la pancia sua furbo con un topo di chiamica cento contro non lo dica nessuno forza ragazzi andiamo via non lo dica nessuno è un segreto cento contro il buro si faccia arrivederci a tutti filare il nivio delfino scosse la criniera e salendo all'aurea poppa il nocchiero spiegò al vento la vera rigonfia e si allontanò a ve le spiegate secondo fiocco alla bordo una frotta di nifferi giabre si appressò e attaccandosi ai fianchi del nobile fascello intrecciarono i loro corpi lucenti come fa l'esperto carradore quando adatta al mozzo della ruota i raggi equinistanti di cui ciascuno è fratello dell'altro e li cinge tutti di un cerchio esterno e in tal guisa giunge prestezza al pie dell'uomo sia che corra al lagone sia che denzoni per il sorriso di donna e me così furono viste a correre i disporsi dei ninfio a venenti immortali sorelle e ridevano sull'alzandosi nella cerchia della loro spuma il vascello scendia ma per miliana avevo posato il culo del ganchiere che ti vedo il cittadino alzarsi e c'è impennare verso la porta soffiando e sbuffando come un idropico e tirandogli addosso la maledizione di grosso e campana libero e candela in irlandese sputando e sputacchiando di rabbia e gioa il piccolo alfi intorno a lui come un folletto a cercare di rabodirlo treviva per il sovaere via sta tranquillo rimetti il culo a piombo per l'amor di dio non stai a dare spettacolo cristo c'è sempre qualche pagliaccio un pottuto che per delle pottute pesserie vuol provocare un pottuto putiferio perdia una roba da farti tracciare le tutelle davvero e tutti gli straccioni e le svoltrime della nazione intorno alla porta e martin che diceva al vetturino di filar via e il cittadino che berciava e alfe gioa i panni che lo settivano e lui sul cavallo d'orlando contro gli ebrei e quegli sfaccendati che chiedevano un discorso e jack power che cercava di farlo mettere a sedere sulla carrozza e tener chiuso quel fottuto becco e un panullone con una benda sull'occhio che attacca a cantare se l'uomo della luna fosse ebreo e io e io e io e una squadrina urla perdifiato ehi sorcoso c'hai la bottega aperta e lui a dire menderson era ebreo e anche carlomax e mercadante e spinosa e il redentore era ebreo e il suo padre era ebreo il vostro dio non aveva padre ma ora basta dai via partiamo ma al dio di chi? lo zio era ebreo il vostro dio era ebreo Cristo era ebreo come me ma perché gli faccio uscire la cervella a quell'ebreo fottuto che si permette di usare il santo nome Cristo lo crocifigo vedete ah lo crocifigo eh a me questa scatola di visco ma dov'è che lo voglia facciare fottuta miseria voglia arrivare il tempo per il Vangelo fortuna che il fiaccheraio era riuscito a far voltare la testa la rossa e via il cavallo ma lui per Diana allunga il braccio e prende la ire e lascia andare ormai l'ha fatto grazie a Dio che ci aveva il vino negli occhi se non neanche la vino se no te lo stendeva secco per Diana a momenti lo fa volare fino all'Omfort quella rossa fottuta si spaventò e il vecchio bastardaccio via dietro a fare il diavolo a quattro e tutta la marmagna a urlare a ridere e la vecchia scatola di latta che sferagliava sul secciato la catastrofe fu terrificante e istantanea i suoi effetti l'osservatorio di Danskin registrò in tutto 11 scosse tutte del quinto grado della scala e non si ricorda una simile scorsa sismica nella nostra isola dal terremoto del 1534 l'anno della ribellione di Thomas il rivellupato piaggiatore l'epicentro sembra sia stato in quella parte della metropoli che consiste dal rione della riva in e della parrocchia di San Michon per una superficie di 41 iugeri due perte che opali e un braccio quadrato tutte le residenze signorine nei pezzi del palazzo di giustizia sono state abbattute e anche quel nobile edificio nel quale al momento della catastrofe si stavano svolgendo importanti dibattiti letteralmente a un amasso di rovine e c'è ragione di vedere che tutti quelli che si trovavano vi si trovavano siano stati rimasti siano rimasti scusate sepolti da relazioni di testimoni oculari sembrerebbe che le onde sismiche fossero accompagnate da una violenta perturbazione atmosferica di carattere ciclonico un copri in capo che si è poi accertato appartenere allo stigmatissimo cancelliere della corona mister George Fogler è un ombrello di seta con manico d'oro iniziale cimiero e stema e in diritto del dotto e venerato presidente della sessione trimestrale Sir Ferric Falkner prima magistrato di Dublino sono stati rivenuti dalle squadre di salvataggio in parti remote dell'isola e rispettivamente il primo sul terzo finale basaltico della via dei giganti secondo il cassato alla profondità di un piede tre pollici la sabbia della spiaggia della baia di Areoto vicino all'antico Carlo Fizzi allora ci dicono che altri testimoni oculari depongono di aver osservato un oggetto incandescente di enormi proporzioni stagliato attraverso lettere velocità terrificante con traiettoria a sud ovest ovest messaggi di condoglio e di simpatia provengono di ora in ora da ogni parte dei vari continenti e insomma contefice si è graziosamente piaciuto di decretare che una specie missa si è celebrata simultaneamente dai titolari di tutte le chiese e cattedrali di tutte le dodici diocesi episcopali soggetti all'autorità spirituale della santa sede in suffragio delle anime dei deceduti che sono stati chiamati così inaspettatamente ahimè nel mondo dei più il lavoro di recupero e rimozione di sono stati chiamati scusatemi il lavoro di recupero e rimozione di debris di resti umani eccetera è stato affidato alla vita di si e mattina i numeri 77 78 79 80 di North Wall col concorso della truppa e degli ufficiali della fanteria leggera del Ducati Cornovaglia sotto la supervisione del generale di sali contro ammiraglio onorevole sir Alvarez Anibal Amel Scarpus Anderson cavaliere dell'ordine della Germantira cavaliere dell'ordine di San Patrizio membro dell'ordine dei cavaliere templari membro del consiglio privato di sua maestà commendatore dell'ordine del bagno deputato del parlamento giudice di pace dottore in medicina decorato di meriti distinti dichiarato pervertito distinto una cosa simile non te la sei neanche mai sognata per Diana se gli fosse arrivato quel biscottino sulla zucca se ne sarebbe ricordato per un pezzo della coppa d'oro per baco ma il cittadino sarebbe finito in gattabuia per via di fatto e Joe per concorso in reato e il fiaccheraio salvò la situazione mettendo la bestia al galoppo sfrenato quanto è vero che Dio ha creato Mosè come Cristo si finò e l'altro gli snocciolò dietro una sfinza di boccoli ma l'ho ammazzato se io mi arrivo dal dietro dal dietro mando e l'ultima cosa che si vide fu quel maledetto carosino che doppiava l'angolo con su quella testa di pecorone che gesticolava e il fottuto bastandaccio dietro con le orecchie schiacciate che ce l'avrebbe fatta farlo a pezzi cento contro cinque Cristo gliel'ha fatta pagare ve lo garantisco io quando ecco un grande splendore venne a loro intorno ed essi videro il carro su cui egli stava per scendere al cielo e videro lui nel carro rivestito nella gloria di quello splendore che aveva vestimento come nel sole bello come la luna e terribile sì che per tema non osarono levare gli occhi a lui e venne una voce dal cielo che chiamava Elia 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 ed egli fece risposta con un grido possente Abba Adonai e videro lui lui appunto ben blu Melia che in mezzo a nuvoli da angeli ascendeva alla gloria dello splendore con un angolo di quarantacinque gradi giù per via San Bernardo come una palettata a scagnata da un valide grazie grazie Grazie.